E' in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in Calabria, nonostante la scarsa affluenza alle urne che nella regione si è fermata al 58,99%, molti comuni hanno già il loro sindaco raggiungendo il quorum con un unico candidato, come San Vincenzo Lacoste che ha riconfermato Gregorio Iannotta, Panettieri che ha riconfermato Salvatore Parrotta, Castro Reggio che ha eletto Alessandro Adduci, Carpanzano con Valerio Vigliaturo e Cellara che ha eletto Vincenzo Conte. Nel frattempo ad Amantea è in vantaggio Luigi Socevole, ad Acre il candidato sindaco Zanfini, a lungro in vantaggio a Carmine Ferraro e a Praia Mare Antonino De Lorenzo. Nelle prossime ore si saprà quali comuni saranno nuovamente chiamati alle urne per il secondo turno e chi invece decreterà il proprio sindaco già in giornata.